Ciao a tutti i gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Ragazzi siamo tornati come ogni mercoledì qui su FIFA 17 E oggi abbiamo la prima partita che è quella di Euro Football League Cup Contro il Blackpool Rovers Ragazzi questa è la formazione che ho schierato Non so più che mi da Ibra In quanto non è per i titolari Ho messo Vardy laterale, Rashford centrale, Lingard Juvensteiger, Tourette, Pelény, Shaw, Blind, Bailey e Valencia L'unico titolare rimasto in realtà è il portiere De Gea Che ragazzi andiamo subito nel match Valencia verso Yahya, Tourette, no è Rashford Rashford prova il tiro Rashford Fuori di pochissimo, subito Rashford in evidenza Rivediamo ragazzi, bel tiro, guardate si è girato E in un nanosecondo ha tirato fuori di pochissimo Bello il pallone dentro per Lingard All'indietro, Rashford si gira, Rashford vince il contrasto Rashford gol, passiamo in vantaggio Dai cazzo Così 1-0 per noi Abbastanza portabile, però mai da sottovalutare Stipendio Rashford qui gravissima, vince il contrasto A combinare il portiere Rivediamo ragazzi Guardate che bel tiro, un po' svirgolato Ma l'importante è che ha segnato 1-0 per noi Attenzione qua Bello il pallone, Lingard Rashford, Rashford Rashford prova ancora il tiro Rashford centrale Barra facilmente steal Bravo qua Vardy Vardy che se ne va Vardy ancora Vardy 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 Può provare il tiro Vardy palo fuori Vardy vicinissimo a raddoppio ragazzi Mamma mia che tiro Un siluro Rivediamo Guardate che tiro Bellissimo l'effetto della palla Palo pieno Nulla da fare Guardate la dispersione anche di Pinco Rashford Bello che Gmine Stiger ancora prova Oh arbitro E dai Vabbè ma che cazzo Attenzione qua Sbagliato tutto Gmine Stiger prova il tiro Il Blackburn Deviazione E finisce qui ragazzi Il primo tempo Ovviamente Come era prevedibile Dominato Ma sapeva il vantaggio Solo di un gol Quindi comunque dobbiamo tenere La concentrazione alta Andiamo subito a vedere Come andrà il secondo tempo Attenzione qua Bravo Feleni Che recupera la palla È regolare Feleni prova il tiro Feleni ancora Stil para Dentro verso Valencia Valencia Crossa dentro Solo Rashford Raddoppio 2 a 0 Facciandole sultare Ecco qui Rashford Doppietta per lui Goal facile Facile Rivediamo Cross perfetto Guardate Lasciato da solo È bellissimo Più piattone al volo Per un gol Abbastanza facile 2 a 0 Per noi Vardy ancora Resiste Vardy Può provare il tiro Vardy a giro Troppo alto Insomma Yaya Touret Dentro Rashford Rashford Si gira Tiro di Rashford Stil compie il miracolo Pensavo fosse tripletta Invece no Rivediamo l'intervento Del portiere Guardate ragazzi Avevo dato per scontato Fosse gol Invece guardate il tiro Molto bravo Stil a parare Siamo stranamente sbilanciati Ancora il Blackburn In rovers In mezzo il tiro Il gol Ragazzi Eravamo stranamente sbilanciati Non so come mai 2 a 1 Alla prima azione Che hanno fatto Questa è la prima azione Viera del match Hanno segnato Ecco qui 2 a 1 Per noi Dobbiamo fare Attenzione Rivediamo qui Ecco qui Il gol E allora palla Dall'altra parte Verso Vardy Vardy Può scattare Vardy Attenzione Rigore Calcio di rigore Nettissimo ragazzi Attenzione qua A parte No c'è la parata Ragazzi Su Yaya Toure Mi ha parato il rigore Bravo Yaya Toure qua La da dentro allora Per Vardy Il tiro di Vardy Stil miracolo Stil miracolo Ragazzi Dopo il calcio di rigore Fallito Quasi gol Comunque Dentro Verso Schweinsteiger Un po' lento E macchinoso Però riesce A uscirne Vittorio sul tiro Di Schweinsteiger E fuori di pochissimo Vardy Prova il cross Dentro Vardy Verso Di nuovo Stacca E all'ultimo Secondo Mette dentro Il pallone Del 3 a 1 Il pallone Della sicurezza E finisce qui Ragazzi La partita Ovviamente Il gol Era arrivato Già Ad ampio Recupero 3 a 1 Per noi Non abbiamo avuto Grossi problemi Con il Black Provers Come era Prevedibile Andiamo A vedere Le statistiche Ecco qua ragazzi 12 td Per noi E solo 3 Per i Black Provers La differenza Era troppa Andiamo Avanti Allora Attenzione ragazzi Ci è arrivato Un colloquio Con Michael Carrick Mister Voglio giocare Di più Se sto fuori Mi demoralizzo Quindi magari Qualche partita Li darò Opportunità Di giocare Come titolare Anche Rashford Certo Sono felice Di essermi Italiano Il mio spazio In campo E devo Tutto a lei Grazie Mister Quindi ragazzi Rashford Sta crescendo Benissimo Ha fatto una tripletta Quindi sarà Titolare Nella EFL Cup Abbiamo ricevuto Un'offerta Perenale Nazionale La Slovenia Ma ragazzi Per ora Preferisco Concentrarmi Come vi ho detto L'altra volta Sul campionato Quindi Rifiuto Eccoci qui Nella partita Di campionato Contro Le Chesser Quindi questo È un altro Big match Ragazzi La formazione È quella Invece solita Quella del campionato Con Dipai Ibrahimovic Martial Rune Verratti Pogba Roggio Smalling Tiago Silva Darmiana E De Gea In porta Andiamo subito Nel match Bello il pallone Per Ibra Prova il tiro Ibra E Ziller Al posto Di Schmeichel Forse sarà Infortunato Ha subito Compiuto una parata La prima del match Ecco qua Ibra Guardate il tiro Bravissimo il portiere Dentro Colpo di testa Traversa Da parte No Traversa Mi sa di Tiago Silva Vicinissima al vantaggio Guerrune E pallone Che rimane lì Sede di rimpalli E fuori Ragazzi Non scapivo più Un cazzo di nulla Guardate qua Sede di rimpalli Poi è arrivato Musa È vicinissimo Al gol del vantaggio Il Leicester Ibra Bello per Verratti Ancora qui Marco Verratti E se lo può provare Il tiro di Verratti E Ziller Para Ancora il Leicester Che ha dei velocisti in campo Cross dentro Colpo di testa Traversa Da parte delle Leicester Marcella allora Verso Pogba È solo Pogba Non riesce a tirare Porca miseria ragazzi Di pochissimo Musa Può provare il tiro Musa Palo Pallone che rimane lì E c'è il miracolo Di De Gea Ragazzi per un attimo Ho visto il gol Mamma mia Guardate Palo È qui De Gea Miracoloso Guardate Di riflesso Mamma mia Che parata De Gea Ancora Di Pai Di Pai ancora Sempre lui Dentro Runei È solo Runei Il tiro C'è il gol Del vantaggio Siamo in vantaggio Con Werrunei Gran merito Per il gol Però ragazzi È a Memphis Di Pai Gravissimo Memphis Ragazzi Grande sgaloppata Guardate qui Memphis Si ferma Werrunei Tiro È di piatto Grande gol L'esperienza di Werrunei La riuscita di Di Pai Devastante 1-0 Per noi E finisce qui Il primo tempo Abbiamo segnato Veramente All'ultimo Secondo Ora nel secondo tempo Dobbiamo cercare Di mantenere Questo vantaggio Genvardi Che può fare il gol Dell'ex Vardy Il tiro E Ziller Dice ancora di no Pallone messo dentro Colpo di testa Palla che rimane Di Tiago Silva Palo Palo di Tiago Silva Rocco Può provare il tiro Bruttissimo Dunque ci ha provato Ha avuto coraggio Va a chiudere Darmian Cross dentro Pallone che rimane lì Attenzione Doppia traversa Stranissima traiettoria È quasi gol Mamma mia ragazzi Abbiamo rischiato No Blind appena entrata A posto di Smalling Prova a tenere Musa Che tira fuori Per fortuna ragazzi Ancora Martial Ancora dentro Ancora Pogbun All'indietro Può provare il tiro Darmian Passa il tiro C'è il gol Raddoppio Raddoppiamo Con Mattia Darmian Da fuori area Un siluro imparabile Guardate qui Pogba Scarica dietro È da limite dell'area Guardate quel tiro Mattia Darmian 2 a 0 Chiudiamo qui O almeno spero Chiudiamo qui il match Ecco qui il siluro Di Mattia Darmian 2 a 0 E finisce qui ragazzi La partita 2 a 0 Per noi Abbiamo vinto Questo Che si può considerare Un big match Contro Il Leicester Ecco qui Vedete Pinco Palino E Claudio Ragnieri Che si danno la mano Ecco qui le statistiche 10 tiri per noi E 6 per Leicester Abbiamo avuto comunque Un predominio Anche a livello Di possesso pala Con 53% Contro 47 Allora attenzione ragazzi Ibra sarà infortunato Per due mesi Frattura Dito del piede Quindi abbiamo perso Zlatan Per due mesi Inoltre abbiamo perso Anche Smalling Però solo per 5 giorni Mentre Ibra È un infortunio Abbastanza pesante Questa ragazzi È la classifica Siamo al primo posto A 12 punti Insieme al Manchester City Segue il Chelsea A 11 Tottenham Milders Bragg E Leicester A 10 punti Arsenal a 9 Eccetera eccetera Ci sono squadre Comunque con Alcune partite di meno Però ragazzi Sicuramente stiamo Piano piano Ristrendo la classifica Come sempre Lasciate un like Per sostenere questa serie Commentate se volete Dimmi qualcosa Condividete Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Qui sotto ragazzi Come vi dico ormai Sempre trovate tutte Le mie pagine Quindi passate anche Dai miei social Qui da un giorno Nel 83 Tutto ci vediamo Mercoledì prossimo Sempre alle 14 Ciao gamers Sous-titrage ST' 501